Ah, che bello. E poi qui, e comincia a scendere, 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 scendere. Ciao, grazie di essere qui con noi. Oggi, oggi, oggi. Oggi andrò a fare un video di grattini, un piccolo massaggio, un po' di brushing, tracing sulla schiena. E, niente, cominciamo subito. So che questi video sono molto richiesti, ma facevo fatica a fare una modella. Quindi oggi l'hai venuta semplicemente a pranzo da me e l'ho incastrata nel girare questo video. Quindi, cominciamo subito. Comincio a fare dei grattini un pochino dal collo. Non so se sentirete molto il rumore della pelle, perché il microfono purtroppo è un po' lontano. Un po' si sente, però. Andiamo a lasciare fare un pochino la pelle. Tutto su, sul collo. E' appienato il tuo costume. Dicevo, non si sentirà bene il rumore della pelle, perché essendo la pelle un po' mi diccia. Non è ovviamente secca, non lo sentirete tanto. Partiamo e disegniamo dal collo, fino alle spalle, dal collo, fino alle spalle. E vado a disegnare questa fantasia. Dal collo, scendo, 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 vado sulle spalle. E poi ritorno verso il centro. Faccio un po' di zoom sui te. Collo, scendo, scendo, scendo. E ritorno verso il centro. Non so, sentite le cicare. Una tipologia di grattini che mi piace molto, la sapete? E' quella proprio sul collo. Sulla attaccatura dei capelli. E poi qui. Da fare un leggero massaggio. Certo non c'è bisogno dell'olio. Fando un pochino più a stenderlo. Perdonate, sentirete dei rumori esterni, ma non abbiamo altre occasioni per girare questo video. Comincio ad andare un pochino sulle scapole. E' ancora un po' più giù a seguire la colonna vertebrale. Adesso, se vuoi, mi vuoi proporre delle parole? Così le vado a scrivere, così le vado a scrivere, ma quelle che siete è un po' complicate. Dimmi una parola. Narcobaleno. Narcobaleno. Narcobaleno, ok. Narcobaleno. 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 questo è un pennello che piace sempre tantissimo guarda che bello questo azzurro con questo viola del pennello un'altra parola corolla 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 c o l o l l l l l l l l facciamo l'ultima parola rintocco rintocco fin tocco rintocco c'è anche con le mani rintocco mi ricordo che anche da piccola io faccio finta anche di scrivere proprio lettere alle persone ah tra l'altro un piccolo fun fact quando vi racconto che da piccola mi piacevano un sacco i grattini ecco eravamo noi due con altre amiche noi due con altre amiche che ci facevamo proprio i trenini di grattini quindi io ognuno faccio le grattini e quella dopo e come vi ho detto è stata una delle mie prime esperienze smr secondo me uno dei primi ricordi almeno che ho scriviamo rintocco così rintocco 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 e adesso come la facciamo anche nella questo gioco il gioco dell'uovo che si rompe che è uno dei miei preferiti la facciamo anche qui il gioco dell'uovo che si rompe ok Dovreste ricordarvelo perché ve lo propongo relativamente spesso Qui c'è l'uovo E rompiamo E scende, 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 scende Scende, 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 scende E ancora l'uovo E comincia a scendere, 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 scendere Scende lungo tutta la schiena e scende giù Ultima volta con l'ovetto che si rompe E scende, scende lungo tutta la testa Il collo, le spalle, le braccia Lungo tutta la schiena, 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 schiena Scende, 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 scende Un po' di tapping Andiamo a riattivare un pochino la circolazione Vado a prendere Ho preso anche l'altro pennello Questo pennello bianco, bianco, bianco E andiamo a fare doppio brushing Fin giù Quindi dall'attaccatura dei capelli Fin giù L'attaccatura, fin giù Un po' anche le spalle Devo dire che le cicale Filtrate dalla finestra Sono anche rilassanti Fanno molto giornata di vacanza estiva Al mare Giornata di relax estiva al mare Attirano un pochino sui capelli Con i pennelli Devo attirare la spalla E vado su E vado anche dall'altra parte E vado anche dall'altra parte E anche sull'orecchia E su tutto il collo Adesso faccio una cosa che non so se riuscite bene a vedere Magari dopo che metto lo zoom Vado a unire Tutti i puntini Dei nei Che lo sono sulla schiena Come se fossero Sapete quei giochi Che trovi nell'enciclopedia In cui ti venite tutti i puntini E si forma la figura Ce n'è uno qui E faccio lo zoom Lasciate stare che ho detto in ciclopedia Ma ci sono 45.000 gradi all'ombra Quindi L'avrei detto anche in inverno Ma d'estate mi giustifico così Comunque Ma che fai? Cosa? Cosa troverai? Che cosa? Come il giochino Che si chiama Che cosa appaierà Sulla settimana enigmistica Si vede che non sono tippa Da settimana enigmistica Ok Adesso spero che vi date un pochino meglio Alcuni nei Così diventa più rilassante Il tutto Solo che lei nei molto chiari Partiamo da questo sul collo Andiamo su questo Un pochino sulla spalla E questo qui Secondo me dovete vederlo un po' bene E andiamo a creare direi Quasi una costellazione Questo qui Questo Torniamo su Andiamo al centro E torniamo poi A sinistra Ce ne sono un sacco E ritorniamo su Sul collo E qui alla fine Bello Mi piace sto gioco Ok Io spero Davvero 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 Che questo video vi sia piaciuto E se vi è piaciuto Ricordatevi di mettere Un mi piace E di commentare Qual è stato Il vostro momento preferito Qual è stato Il momento Il movimento O l'oggetto Che vi ha fatto venire Più brevetini Così magari Lo farò anche In un prossimo video Io penso proprio Penso Proprio Penso Proprio Penso Ti faccio male Allora Allora Non prevedo di Non prevedo di relax Penso proprio Sia Giunta L'ora Passare L'eloggetti E augurarmi Augurarti Augurare A te A te A te Una buona 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 Notte Notte Sogni 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 becchi, becchi, becchi buonas nuotjes dulce sueños Buon'nui, buon'nui, buon'nui. Fai dei gioiei rêve. Gute notte, le canoste. Buon'nui dei miei piccoli pasticcini all'amilo. Ho un bacione che li spera.